Nome. David Parker Ray. Soprannome. Toybox Killer. Numero vittime. Tre accertate ma sospettato di oltre 40. Modus operandi. Sequestro di persona, stupro, torture fisiche e psichiche. David Parker Ray nasce nel Nuovo Messico, Stati Uniti, il 6 novembre 1939. Durante la sua infanzia, David e sua sorella minore Peggy vivevano con il loro nonno disciplinare. Era visitato sporadicamente dal suo padre, un uomo violento e alcolista. Anche a scuola la situazione non era delle migliori. È stato anche vittima di bullismo da parte dei suoi pari per la sua timidezza nei confronti delle ragazze. Le sue fantasie sessuali di stupro, tortura e persino uccisione di donne si sono sviluppate durante la sua adolescenza. Intorno a questo periodo, sua sorella scoprì i suoi disegni sadomasochistici, oltre a fotografie erotiche estreme. Dopo aver completato il liceo, ha lavorato come meccanico. Fu radiato dall'esercito statunitense, dove il suo servizio comprendeva anche il lavoro come meccanico generale. Nel corso della sua vita si sposò quattro volte. Divorziò quattro volte ed ebbe in totale due figli. Era il 1950 quando quelle perverse fantasie diventarono realtà. David Ray era un sadico, senza scrupoli, insonorizzava un rimorchio per camion che chiamava la sua scatola dei giocattoli e lo equipaggiava con oggetti usati per la tortura sessuale. Ray torturò sessualmente e presumibilmente uccise le sue vittime usando fruste, catene, pullegge, cinghi, morsetti, barre per le gambe, lame chirurgiche e segchi. Si pensa che abbia terrorizzato molte donne con questi strumenti per molti anni, mentre viveva nel Nuovo Messico. All'interno della stanza delle torture, insieme con numerosi giocattoli sessuali, strumenti di tortura, siringhe e diagrammi dettagliati che mostravano diversi metodi e tecniche per infliggere dolore, c'era un generatore elettrico fatto in casa che veniva usato per la tortura. Uno specchio era montato sul soffitto, sopra il tavolo da ginecologo sul quale avrebbe legato le sue vittime. Il mostro voleva che le sue vittime vedessero tutto ciò che stava facendo a loro durante le sessioni di tortura. Ray aveva spesso registrato un nastro audio di se stesso per le sue vittime ogni volta che riprendevano conoscenza. La sua furia omicida cessò nel 1999. Quel giorno Ray si era vestito da poliziotto. Si avvicinò a Cintia Vigili in un parcheggio. Le disse che era in arresto, per sollecitazione di lavoro sessuale, e l'ammanettò. La mise nella raulotte e la portò via. Dopo tre giorni di prigionia, Vigil è fuggita dalla raulotte. Per fuggire, aspettò che Parker andasse a lavorare, poi riuscì a prendere le chiavi per sbloccare le sue catene. Ma all'interno della raulotte c'era anche un complice di Ray, Cindy Andy. Dopo che Vigil ebbe le chiavi, Andy notò il tentativo di Vigil di scappare e ne seguì uno scontro. Durante la lotta, Andy ruppe una lampada sulla testa della vittima, ma Vigil riuscì a sbloccare le sue catene e pugnalò Andy al collo con un romp. I ghiaccio. Andy cadde a terra e Vigil fuggì. Vigil corse via nuda, indossando solo un collare da schiavo di ferro e catene con lucchetti. Una volta che Vigil è scappata, ha corso lungo la strada in cerca di aiuto, in seguito ricevendo assistenza da un proprietario di casa nelle vicinanze. Il padrone di casa ha preso Vigil, l'ha confortata e ha chiamato la polizia. La sua fuga alla fine ha portato i funzionari sulla pista e la cattura di Parker. Dopo la pubblicità dell'arresto, un'altra vittima, Angelica Montano, si fece avanti. Raccontò una storia simile e disse che aveva riferito l'incidente alla polizia, ma non c'era stato nessun seguito. Anche altre donne rapite si fecero avanti. Le indagini intanto stavano continuando. Ray aveva un video di un'altra vittima, Kelly Garrett, risalente al 1996. Il 24 luglio 1996, la figlia di Ray, che era amica di Garrett, la portò in un locale, e drogò la birra che stava bevendo. Garrett riuscì a raggiungere il parcheggio quando Ray la colpì da dietro, facendole perdere i sensi. Ray la portò alla sua raulotta e attaccò un collare e un guinzaglio a Garrett. Garrett si svegliò, ma si oscurò più volte durante due giorni di torture e droghe. Durante questo periodo, Ray notò che stava respirando e le squarciò la gola. Pensando che l'avesse uccisa, Ray la scaricò sul ciglio di una strada. In seguito è stata curata per le sue ferite in una clinica locale. Né suo marito, né la polizia, credevano alla sua storia. Dunque fu scoperto un altro complice di Ray, ovvero sua figlia. Così FB ha inviato 100 agenti per esaminare la proprietà e i dintorni di Ray, ma non sono stati trovati resti umani identificabili. Per impedire alle donne di denunciare i crimini, Ray le aveva drogate con agenti per indurre l'amnesia. Il 28 maggio 2002, poco prima di essere interrogato, Ray muore per un arresto cardiaco. Mentre i suoi complici stanno tutto rascontando la pena. Non usciranno di galera prima del 2021.